Questo incontro e questo raduno per noi è importantissimo perché ci lega con tre Ferrari Club che sono i più importanti della Lombardia, cioè Caprino Bergamasco, Varese e Erba. Quest'anno c'è stata la gradita sorpresa che ci è venuto a trovare il direttore sportivo della Ferrari, il responsabile Massimo Rivola e il responsabile dei Ferrari Club Mauro Apicella. Per noi è stato un gradito, una cosa gratissima. Monza 14 giugno, Go Michael e Bianchi, una festa fantastica fatta da persone fantastiche, dai Club Varese, Erba, Vedano all'Ambro, Caprino e Bergamasco. Quasi 80 vetture, siamo stati fortunati, la pioggia non molto, non ha voluto graziarci anche oggi, comunque fortunati che tutti questi ferralisti hanno voluto sposare questa bellissima festa e sono venuti e hanno partecipato. Questo tipo di manifestazione è data dal cuore e dalla nostra passione rossa. Michael Schumacher ci ha regalato tantissime gioie con le sue strepitose vittorie e ora che giace in condizioni così anomali diciamo, noi ci sentiamo il dovere di donare a lui questo tributo col cuore, con la nostra passione e per far sì che ritorni ad essere quello che era una volta. Michael e Jul, tornate tra noi. Forza Ferrari! Noi organizziamo le cose in sintonia con gli altri club amici, siamo fieri di essere ospitati nel club di Vedano con Mauro Racanello Varese, con Giulio Carissimi di Bergamo dove l'anno scorso abbiamo iniziato questa promozione per Michael, quest'anno l'abbiamo proseguita con Julì e siamo contenti di far parte di questo team di Veni Appassionati. Grazie ragazzi, buon caluto con Ferrari! Grazie a voi! 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 Grazie a voi!